Regista, ma sei sicura che deve usare soltanto la magliettina Compex? Vabbè, per la prima recensione... Ciao ragazzi, oggi parliamo di Compex Fix 1.0 Grazie a tutti Compex Fix 1.0, la nuova tecnologia di percussione di Compex, azienda leader nel mercato dell'elettrostimolazione che da qualche settimana ha lanciato questo nuovissimo prodotto. Vediamolo in dettaglio. Il Compex Fix 1.0 è uno strumento di automassaggio che consente, grazie alla testina di percussione, di effettuare un massaggio profondo post allenamento oppure di gestire pre allenamento o riscaldamento. Consente infine una personalizzazione del massaggio in funzione del livello di percussione e del trattamento effettuato. Ma come si utilizza il Compex Fix 1.0? Beh, banalmente in due semplici mosse riuscirete ad attivarlo. Una volta inserita la batteria, io non sono tanto capace, non si può dire, dice la Silvia. Bisogna decidere quale parte del corpo trattare. Noi vi consigliamo, soprattutto se pensate di fare un piccolo riscaldamento, di eseguire un circuito. Un circuito che vi spiegheremo nei prossimi minuti. La pistola Compex Fix si può utilizzare sia in allenamento, sia post allenamento, sia per il riscaldamento. Esistono tre posizioni diverse in funzione dell'intensità del massaggio. Prima di utilizzarlo sappiate che comunque ci sono delle controindicazioni di utilizzo che sono ben spiegate sul sito della Compex e anche sul manuale di istruzione. Vi consigliamo ovviamente di verificare che non abbiate nessuna di queste controindicazioni prima di acquistarla. Non ci vuole particolare destrezza nell'utilizzo del Compex Fix 1.0. Basta semplicemente accendere, puntare e massaggiare. Esistono tre modalità. Il primo livello che ha 25 colpi al secondo, 33 colpi al secondo o 46 colpi. La variazione dipende dall'intensità del massaggio. Il primo livello serve per i muscoli più piccoli. Il secondo è quello che noi raccomandiamo ed è di fatto utilizzabile su tutto il corpo. E il terzo livello è per i muscoli più grandi. Esistono tre possibili estensioni. 0, 45 e 90 gradi. Io non sono molto pratico ma semplicemente basta schiacciare in questo modo ed è possibile utilizzare la pistola Compex per effettuare un massaggio. I principali studi medici suggeriscono di utilizzare per ogni singola parte del corpo soltanto un minuto di massaggio. Noi vi consigliamo solamente 30 secondi al secondo livello e in 8 minuti sarete in grado di avere il vostro corpo abbastanza riscaldato. Ovviamente vi consigliamo anche di effettuare poi un riscaldamento. A presto. 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 L'utilizzo del Compex Fix 1.0 è anche possibile una volta completato un allenamento intenso dopo il quale probabilmente avrete una quota a parte dei muscoli abbastanza affaticati. Per quanto riguarda il recupero post allenamento suggeriamo un trattamento di circa 15 minuti ovviamente alla modalità primo o secondo livello a seconda del problema fisico. Invece per quanto riguarda piccoli infortuni o contratture suggeriamo di rivolgersi prima al vostro fisioterapista prima di effettuare un trattamento a percussione. La durata della batteria è abbastanza elevata, questa batteria si ricarica in due ore e mezza circa e potrà durare per circa 90 minuti, di conseguenza avrete a disposizione il Fix 1.0 per tutta la settimana. Sulla parte laterale è disponibile un indicatore di stato della carica della batteria e in questo caso sarete in grado di capire e anticipare eventuali ricariche. Per quanto riguarda il rumore sicuramente il Compex Fix 1.0 è abbastanza silenzioso, soprattutto al primo livello non noterete un grande rumore. Invece ovviamente non avrete la possibilità di utilizzarlo guardando la televisione perché i decibel tenderanno a aumentare al secondo e addirittura al terzo livello si arriverà fino a 75 decibel. In conclusione, dopo un mese di utilizzo possiamo dire tre cose. Da un lato la tecnologia della pistola a percussione introdotta già nel 2008 oramai è diventata mainstream. Tanto sappiate che questa è solamente una tecnologia di integrazione, non sostituisce il massaggiatore, non sostituisce il fisioterapista, lo integra. E soprattutto è importante sapere che a seconda di come il massaggio viene realizzato otterrete dei benefici oppure no. Quindi la pistola a percussione deve essere vista come uno strumento di integrazione rispetto al classico massaggio. La comodità di utilizzare una pistola a percussione alla fine dell'allegamento è sicuramente un vantaggio, a condizione però di essere in grado di conoscere al meglio il proprio corpo. Sfogliando il principale sito di e-commerce mondiale troverete una miriade di prodotti simili a percussione. Quindi la domanda che ci dovremmo porre è perché utilizzare quella Compex Fix 1.0? Secondo me Compex offre un prodotto eccezionale, ha un prezzo accessibile. In conclusione il Compex Fix 1.0 è davvero uno strumento utile per l'automassaggio. In pochi secondi consente una percussione intermittente sul vostro corpo, grazie alla quale, in funzione della pressione che effettuerete sui muscoli trattati, sarete in grado di recuperare dall'allenamento. Noi l'abbiamo utilizzato come alternativa al riscaldamento e nelle poche sedute intense del periodo natalizio per recuperare più velocemente. Per noi il Compex Fix 1.0 è entrato in diritto nell'arsenale del podista amatore. Grazie! Spero che il video vi sia piaciuto, se avete commenti vi prego di indicarli sotto e io adesso vado a prendermi un tè caldo perché mi sono veramente congelato. Vi lascio con alcune spezzoni divertenti che non sono entrate nel video principale. Nei prossimi giorni pubblicherò con il mio amico Andrea Soffientini la prima recensione di Scarpe da Corsa. Ciao! Ma siamo davvero sicuri che devo fare il video con questa maglietta? Ma devo rispondere. Ma devo rispondere. C'è la mamma che passa. Cazzo, anche la mamma ci rompe le palle. Il Compex Fix 1.0 è una... Non è che devi ripassarlo meglio? Sì. Il Compex Fix... Per le modalità. Eh? Per le modalità, no. Il Compex viene fornito in una valigetta blu. Salute Silvia. Per le modalità, no. Per le modalità, no. Ok. Grazie a tutti.